Un osservatorio al quale il municipio ha aderito sin agli albori, ancora quando l'osservatorio era in nuce e quindi andava costituendosi, e poi con una deliberazione del Consiglio di Municipio, all'inizio del 2020, aderivamo all'osservatorio sul fiume Lambro. In particolare abbiamo aderito a questa attività condividendo quelli che sono gli obiettivi. L'obiettivo è quello di raccogliere la memoria storica di questo fiume che attraversa per diversi chilometri il territorio di Milano e tocca anche buona parte del territorio del Municipio 4. e quindi abbiamo sostenuto anche tutte le battaglie che prima il Grem e poi l'osservatorio, dal 19 in poi, ha portato avanti. Ora io non rubo altri minuti e cedo volentieri la parola al presidente dell'osservatorio Gianni Pompulini. Grazie. Grazie a te Marco e buonasera a tutti. Due parole soltanto per introdurre quelle che sono queste due associazioni. Il Grem è un'associazione che ormai opera dal 1985 sul territorio, in particolare sul territorio est milanese. Negli ultimi cinque anni ha rispolverato un po' questo discorso dell'Ambro che aveva già portato avanti negli anni scorsi cercando di fare delle azioni che potessero portare un beneficio al territorio, all'Ambro stesso. Abbiamo fatto un progetto portato avanti che si chiamava Filbleu, il quale progetto alla lunga ha generato poi questo che è l'osservatorio che oggi vede la presenza di una sessantina di iscritti, circa metà e metà persone fisiche, tutte di provata competenza e metà di soggetti più complessi come aziende piuttosto che associazioni, piuttosto che compresi anche gli enti pubblici tipo i municipi perché il municipio 4, insieme al municipio 3 e al municipio 5 che sono competenti per questa zona hanno aderito. Le aziende sono anche di una certa consistenza, abbiamo Metropolitana Milanese, abbiamo enti come l'Agenzia Interregionale per il Po, il Parco della Valle dell'Ambro e così via. Comunque diciamo che per tutte le informazioni potete vederle sul sito sia del Grem che dell'osservatorio Lambro. Adesso per introdurre un po' il tema del ponte che era uno dei tre punti di cui volevamo dibattere questa sera, io farei vedere un filmato che parla già da solo e poi lo commenteremo insieme a un breve filmato, 3 minuti, 3 minuti e mezzo che poi commenteremo. Quindi se vogliamo farlo vedere. Perfetto, ecco questa è la battaglia fra l'altro che abbiamo sposato come municipio e sostenendo quell'iniziativa che va a rivendicare la realizzazione di questo ponte che garantisce una continuità ecologica per fruire meglio da parte dei cittadini di questo angolo verde del municipio. Se posso, intanto che aspettiamo che la regia faccia partire il video, volevo unirmi anche io con il ringraziamento della presenza qui oggi di Gianni, una importante realtà del nostro territorio e quello che abbiamo voluto fare con questa prima iniziativa che tra poco vedremo è un forte e chiaro segnale di necessità di questo ponte che sembra chissà che cosa, in realtà è un piccolo ponticello che però darebbe la possibilità a tutti i cittadini di fruire del grande parco Forlanini, un grande polmone verde all'interno del nostro municipio, tra l'altro oggettivamente a pochi passi dal centro della città ma che dà un grande respiro ai tanti milanesi che vorrebbero poterlo vivere al meglio ma che oggi hanno una barriera che è rappresentata, una barriera naturale che è rappresentata dal fiume Lambro e una risposta che si potrebbe dare alla realizzazione di questo piccolo ponte ma che però ancora vediamo una lungaggine nei tempi. Vediamo se intanto la regia ci assiste eccola qua ecco un'iniziativa fra l'altro prima che parta il filmato che ha visto coinvolto molta parte della popolazione del municipio 4 lo vedrete anche parco Forlanini che è uno dei polmoni verdi del municipio 4 termine di una lunga bicicletta che è partita da Cicino Nordredo è passata all'area di Porto di Mare, Rogoredo io temo che però non si veda io infatti anche dalla diretta Facebook vedo che c'è un buco nero qui c'è un problema non si vedono le immagini no ma adesso è il bello della diretta come si dice avevamo provato fino a un minuto fa funzionava e invece adesso l'emozione anche per StreamYard si è fatta sentire evidentemente adesso tra poco ecco qua vediamo la prova eccoci qua passiamo qua al parco Forlanini che è uno dei polmoni verdi del municipio 4 al termine di una lunga biciclettata che è partita da Cicino Nosedo è passata per l'area di Porto di Mare, Rogoredo e ha attraversato buona parte del territorio del municipio una bella manifestazione ecologista che abbiamo voluto organizzare come municipio 4 insieme a tante associazioni del territorio dalla GREM a Arte da Mangiare e tante altre che hanno collaborato a questo progetto per sensibilizzare le persone all'utilizzo e a vivere il territorio e a conoscere meglio le opportunità anche dal punto di vista della natura dei parchi del verde dei nostri quartieri e poi anche per accendere riflettori su un elemento di grande ricchezza del nostro territorio che è il fiume Lambro Indici insieme nel verde è un'iniziativa che è stata promossa dall'osservatorio per il fiume Lambro Lucente e realizzata nell'ambito di Milano Green Week e Milano Bike City scopo di questa iniziativa è quello di sensibilizzare l'amministrazione perché venga costruito questo ponte sull'Ambro che dal 2000 stiamo aspettando abbiamo coinvolto la scuola Pezzani in questo discorso ed è venuta fuori una manifestazione di cui sono molto soddisfatto con la scuola Pezzani prossimamente verranno coinvolti i ragazzi per fare una coprogettazione di un percorso sull'Ambro fatto con noi e con l'università e successivamente diventeranno organizzatori di una biciclettata sull'Ambro l'anno prossimo L'Istituto Comprensivo Pezzani ha aderito a questa bellissima iniziativa dell'osservatorio per il passaggio Parco Lambro Lucente con loro anche collaboriamo altre iniziative di carattere didattico ed è riuscita proprio perché nella scuola abbiamo un gruppo di genitori insegnanti, dirigenti e personale che si impegna proprio per i ragazzi e poi in sé perché siamo per l'ambiente e siamo per l'integrazione Questo è un progetto che noi abbiamo iniziato circa un anno fa e quando dico no intendo dire Arte da mangiare, mangiare arte che è un'associazione culturale nata a Milano presso l'Umanitaria 23 anni fa e il nostro compito è quello di mettere l'attenzione attraverso l'arte alle cose che vanno e quelle che non vanno Il Forlanini è diviso in due da quel primo Lambro per cui per noi è una cosa importante che le autorità possano fare un ponte che possa poi andare dall'altra parte in modo tale che le due parti del Forlanini possono essere naturalmente percorribili stando all'interno degli spazi Grazie! 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 Ecco il film è in alta definizione quindi qui si è visto magari poco bene però potete sempre scaricarlo anche dal nostro sito se volete vederlo meglio questa era la prima delle manifestazioni che abbiamo fatto a sostegno del ponte l'abbiamo fatta una l'anno successivo e dovevamo farla anche nel 2020 però nel 2020 il Covid ci ha mozzato le ali e quindi speriamo di farla nel 2021 insomma se potete mettere quella diapositiva del percorso verde magari finisco di illustrare la cosa perché ancora nell'anno 2000 come si vedrà adesso ecco ancora nell'anno 2000 insieme al Politecnico e Italia Nostra abbiamo studiato questo percorso che doveva connettere la città all'idroscalo attraverso i parchi abbiamo fatto un lavoro anche abbastanza grosso e il ponte era uno dei punti cardine di questo lavoro questo percorso verde questo progetto è stato anche utilizzato in parte dal comune di Milano per fare le linee guida di quello che era il concorso internazionale per il grande parco Forlanini che poi ha visto questo concorso un architetto vincitore un progetto un megaprogetto che ovviamente non si sarebbe mai fatto per i costi perché era un po' troppo ciclopico per cui la cosa è stata abbandonata anzi prima doveva essere fatta in un lotto poi in più lotti poi sempre più lotti alla fine non si è fatto e la nostra richiesta è stata quella ancora semplice di non fare dei grandi lavori di non fare delle grandi opere ma di fare essenzialmente un ponticello allora col passare del tempo poi è nata anche un'altra associazione che è l'associazione Grande Parco Forlanini che tra l'altro è uno degli aderenti al nostro osservatorio e il comune di Milano stesso anche insieme nell'ambito anche credo del progetto Relambro con il Politecnico ha fatto una progettazione che adesso non ce l'ho qui perché non ma è simile abbastanza diciamo abbastanza simile a quella che abbiamo proposto noi nel 2000 una parte del parco è stata già realizzata quella diciamo al di là della tangenziale verso via Taverna e quindi mancherebbe la connessione di questo ponte che è quello che poi dopo porterebbe alla costituzione del grande parco Forlanini che se volete mettere la seconda diapositiva dovrebbe essere l'estensione di questo tipo il nuovo grande parco Forlanini quindi a questo punto manca il ponte il ponte abbiamo fatto queste ecco questo è il grande parco dovrebbe essere il grande parco Forlanini se potete vedere praticamente il ponte verrebbe rispetto al progetto del Politecnico viene collocato più o meno nello stesso punto dove abbiamo pensato noi abbiamo chiesto informazioni delle lucidazioni e l'amministrazione e non più tardi di un anno e mezzo fa un convegno l'assessore Granelli aveva ipotizzanza aveva detto che il ponte si sarebbe fatto nel 2021 a seguito però di quell'altro ponte del Monolue quindi le due cose dovevano essere abbastanza contestuali ma sarebbe stato fatto prima quello quindi noi siamo qui in trepida attesa adesso poi magari se ci vuole dire qualcosa il nostro amico Marco Rondini piuttosto che Alessandro Verri che sono del municipio se hanno qualche notizia ultima ci fa anche piacere sentirle ecco beh allora intanto diciamo che questa è una battaglia storica che come ricordavi giustamente tu si porta avanti rappresenta poi di fatto le istanze dei cittadini di Milano che chiedono per il tramite anche di associazioni come la nostra quella dell'osservatorio di realizzare questo ponte che garantirebbe la fruizione da parte di tutti i cittadini di una porzione cioè di un polmone verde in maniera più completa di quanto non lo si possa fare sino ad ora detto questo no novità purtroppo non ne abbiamo da parte del comune centrale che ha si promesso la realizzazione di questo di questo ponte e però non abbiamo nessun riscontro chiaro e definitivo in merito se non delle rassicurazioni a parole sulla realizzazione di questo di questo intervento faccio fra l'altro presente che noi fra l'altro sempre su suggerimento su indicazione anche dell'osservatorio del quale siamo soffi abbiamo portato avanti un'altra istanza e l'istanza è quella della creazione di un corridoio verde di continuità ecologica tra il parco Forlanini il parco Vittorini e Ponte L'Ambro e lo abbiamo fatto adottando una deliberazione di giunta del nostro municipio che abbiamo naturalmente presentato anche nel corso delle commissioni che hanno anticipato la deliberazione questa è un'altra è un'altra questione che viene richiesta dai cittadini per garantire appunto come come dice appunto la denominazione di questa deliberazione una continuità ecologica che garantirebbe di collegare tre realtà importanti verdi presenti sul territorio del municipio 4 che si affacciano sul corso sul corso del fiume L'Ambro che è poi l'altro tema che pensavamo si potesse affrontare insieme in questa serata su questo posso intervenire soltanto per dare anche un'idea il municipio 4 fin dal suo rissediamento anche grazie anzi grazie soprattutto al presidente del municipio Paolo Bassi che fin dall'inizio ha voluto porre un focus nella sua azione diciamo di governo sulla valle dei monaci e in particolare sulla parte più a sud del nostro municipio e da lì ci siamo concentrati da lì che abbiamo iniziato a lavorare anche con l'associazione di Gianni e da lì abbiamo iniziato a fare la progettazione tant'è che infatti il grande evento che abbiamo svolto che abbiamo appena visto nella diretta del 2019 iniziava proprio all'interno del parco della Vettabia e poi a congiunto ci ha visti arrivare fino al parco Forlanini proprio perché è fondamentale soprattutto per la fruizione per la fruibilità degli spazi dei cittadini cercare di creare quella continuità quelle piste ciclabili quei percorsi ciclopedonali che non siano in mezzo alla città che non siano quindi accanto alle macchine ma per cercare di sensibilizzare la possibilità di vivere i nostri territori passando attraverso delle strade sicure all'interno del verde dei tanti territori verdi che abbiamo nel nostro municipio e in questa ottica va anche il progetto di cui ha appena parlato l'assessore rondini e quindi questo corridoio ecologico che vedrà appunto la possibilità di realizzare anche una pista ciclopedonale appunto che collega i due grandi parchi il nostro territorio in maniera tale che i nostri cittadini possano passare weekend quando speriamo lo potremo io spero e ovviamente mi auguro molto presto in tutta serenità in tutta tranquillità in mezzo al verde del nostro municipio poi Gianni se vuoi approfondire te per quanto riguarda il percorso di cui abbiamo appena parlato con l'assessore per far capire anche i nostri il percorso dell'Ambro Lucente abbiamo chiamato così perché coinvolge intanto coinvolge i territori per come è strutturato oggi coinvolge i territori di tre municipi partendo da piazza Adriano Olivetti quindi il municipio 5 passa attraverso il parco della Vettabbia passa attraverso il porto di mare va a Rogoredo e da via Fantoli entra poi in parco Forlaini parco della Lambretta e infine parco Lambro fino a Cascina Gobba questo è il percorso che noi abbiamo fatto con quella biciclettata e con quelle successive abbiamo già fatto un altro tratto di percorso da Cascina Gobba fino a Monza e l'idea è quella di spingerci fino a Pusiano ecco la parte sud affronteremo anche quella e vediamo come il tempo diciamo ci darà ragione o meno l'altra cosa di cui mi premeva invece parlare molto è il discorso del patto di collaborazione che abbiamo fatto con il Comune di Milano con l'assessorato alla partecipazione perché in questo patto di collaborazione è il primo patto che non riguarda soltanto la panchina fuori di casa il parchetto fuori di casa ma riguarda la salvaguardia e la valorizzazione del territorio dell'ambro tratto cittadino e della Vettabia quindi un territorio piuttosto esteso una delle iniziative che entrano dentro all'interno di questo patto di collaborazione sarà il monitoraggio civico che stiamo sviluppando forma di monitoraggio da parte dei cittadini che possono diventare gli elementi di controllo del territorio e di di fornitura diciamo alle amministrazioni di quelli che sono tutte le pecche tutti i problemi in maniera che li possano affrontare direttamente noi abbiamo già avviato questo lavoro adesso purtroppo il Covid ci ha fermato un'altra volta ma con l'Istituto Molinari e anche con Metropolitana Milanese abbiamo avviato un campionamento dell'acqua dell'ambro stiamo facendo delle schede per poter poi dopo dare a chi fa il monitoraggio facendo magari un minimo di formazione e stiamo cercando soprattutto di creare questi gruppi di monitoraggio e quindi questo è il motivo per cui ben volentieri ne parlo questa sera perché i primi a essere coinvolti saranno i municipi municipi 3, 4 e 5 ai quali chiederemo di costituire un loro gruppo di monitoraggio di municipio e poi lo estenderemo alle associazioni a tutti quelli che hanno persone che vogliono dare un contributo fattivo alla città quindi stiamo lavorando per questo faremo i nostri passi formali anche attraverso i municipi ma comunque i municipi già sono nostri soci quindi penso che queste motivazioni le capiscano bene insomma quindi questa è un po' una proposta oltre che un'informazione una proposta che volevo portare avanti questa sera certo ecco io colgo l'occasione in diretta per rispondere anche a chi ci sta seguendo che ci sollecita ricordando che naturalmente la realizzazione del corridoio ecologico è importante lo è altrettanto la manutenzione dell'esistente io faccio presente a chi ci ascolta che purtroppo oggi il budget che il municipio ha a disposizione anche per la cura e la manutenzione del verde per farne la manutenzione ordinaria e straordinaria di fatto rappresenta un terzo del budget totale che il comune che i cittadini del comune di Milano pagano per gli interventi sul territorio del municipio 4 se anziché spezzettare in tre ambiti il budget che viene utilizzato per gli interventi fosse concentrato giustamente come dovrebbe essere nell'ottica del decentramento nelle mani del municipio che è la realtà istituzionale più prossima al territorio l'intero budget probabilmente il municipio sarebbe in grado aumentando la dotazione aumentando la dotazione economica e anche la struttura di fare una manutenzione più accurata e più puntuale anche magari con il confronto con tutti i cittadini e con le realtà come quella appunto della quale stiamo parlando questa sera e non solo perché anche la realizzazione di questo corridoio ecologico forse sarebbe opportuno che per quanto attraversi buona parte del territorio del municipio 4 il nulla osta al parere sia da rimettere nelle competenze di quello che è il municipio 4 senza attendere eventualmente dall'alto un nulla osta per la realizzazione di questo corridoio ecologico che fra l'altro e tra l'altro comporta veramente poco se non uno studio di fattibilità avendo già in parte per le vie informali acquisito anche il parere favorevole dei privati che i cui territori vengono attraversati dal ipotetico corridoio ecologico che noi abbiamo ipotizzato Assessore te hai toccato poi il punto vero cioè è mancato in questi cinque anni un vero decentramento che dia ai municipi di fare una programmazione e soprattutto un'attenzione al territorio migliore rispetto a quanto possano fare oggi con le risorse che sono destinate a loro e la nostra partecipazione all'interno dell'osservatorio dell'ambulucente va in questa ottica ovvero le realtà del nostro territorio sono le vere sentinelle e sono soprattutto il miglior presidio del territorio perché possono dare gli spunti su le problematiche che non funzionano e anche come risolverlo perché lo studio di fattibilità che hanno portato avanti all'interno all'interno dell'osservatorio è tutto fatto da volontari che gratuitamente si sono impegnati nel mettere a disposizione le loro competenze e le loro conoscenze per poter arrivare agli studi di fattibilità che permetterebbero di realizzare e quindi arrivare poi a un progetto definitivo e quindi l'impegno che ci deve essere da parte di un'amministrazione seria intanto è di dare quelle risposte che si aspettano da tanto come per esempio il passaggio del ponte visto che si fanno tanti interventi abbiamo visto un'amministrazione molto dedita alla realizzazione di piste ciclabili ma poi quando bisogna farle fatte bene in maniera seria che possano dare una fruizione una fruibilità poi non vengono fatte quindi serve un'attenzione seria da parte del territorio e questa attenzione la possono dare i municipi che però oggi riescono ad arrivare solo fino ad un certo punto perché senza le risorse che dovrebbero essere destinate appunto all'ente del municipio è difficile riuscire anche a fare una programmazione e soprattutto dare quelle risposte che giustamente i cittadini chiedono alle domande che ci fanno i cittadini sì due cose ancora tu le hai dette Alessandro effettivamente non le avevo tanto ricordate ma il nostro lavoro è un lavoro di puro volontariato ovviamente ci muoviamo sempre in una grande difficoltà per quanto riguarda le spese che dobbiamo effettuare però andiamo avanti così siamo tutti persone che hanno avuto una certa vita lavorativa e quindi adesso dopo una certa età ci siamo ci dedichiamo a parte che ci siamo dedicati anche prima ma ci dedichiamo ancora di più alla città e quindi come sempre dico la nostra collaborazione con le istituzioni è massima l'avete visto voi e continueremo a darle insomma in questo senso per quello che siamo ecco su questo chiaramente va un grosso grazie anche perché la cura e l'attenzione del territorio fa sì che si riescano a portare via dal degrado alcune aree io penso a tutta l'attenzione che mettete voi appunto nella valle dell'Ambro o anche la possibilità di vivere il grande parco Forlanini proprio oggi ho avuto la possibilità o per un sopralluogo di andare insieme alla consigliera Bost proprio lì nell'area del grande parco Forlanini e nonostante fosse una giornata lavorativa devo dire che la presenza di tantissime persone mi ha meravigliato questo vuol dire che i cittadini milanesi se hanno la possibilità di andare al parco ci vanno invece di prendere la macchina e andare non lo so al parco di Monza che è quello che sia però è anche lontano da poter fruire dei grandi parchi dei grandi parchi come quello della Vettavia come il Forlanini sarebbe veramente una grande boccata d'ossigeno che potrebbe essere messo a disposizione dei nostri cittadini per poterlo fare però chiaramente bisogna mettere nelle condizioni delle persone dei cittadini per bene di poter andare in questi spazi è chiaro che se tu non porti dei servizi non riesci a rendere accessibili certi spazi questi spazi verranno soltanto occupati dal degrado o peggio ancora come nella Valle dei Monaci nella parte del ahimè famoso boschetto di Rogoredo da qualcuno che ne fa un utilizzo improprio di quest'area anche attraverso la nostra iniziativa la vostra iniziativa di sensibilizzazione però abbiamo fatto riscoprire ai cittadini un'area un'area verde un polmone verde che credo che sia veramente di grandissima importanza che in questo momento che in questi anni stiamo cercando di liberare dallo spazio della droga e che in realtà come le vostre ci stanno davvero aiutando nel rimpossessarci finalmente di questi bellissimi spazi sì ecco io aggiungo che vale la pena ricordare che l'impegno dell'osservatorio che farà l'altro si è sposato anche con l'attività di altre realtà quali ad esempio Italia Nostra piuttosto che il WWF impegnato in particolare sul nostro territorio per quanto riguarda il Parco Vittorini e quindi per l'area dei fontanili del Parco Vittorini ecco l'attività di questi soggetti ha permesso di sottrarre anche al degrado attirando l'attenzione dei cittadini e per garantire fra l'altro una fruizione corretta da parte dei cittadini di questi spazi ha sottratto di fatto e in sostanza al degrado e magari a un uso improprio come è capitato ai noi al Bosco di Rogoredo di queste realtà che rappresentano veramente un il polmone verde di un territorio come è la città come è la città di Milano polmone verde fondamentale per tutti i cittadini milanesi bene va bene ecco in chiusura naturalmente diamo appuntamento per gli affezionati delle attività dell'osservatorio alle prossime iniziative che cercheremo di organizzare condizioni sanitarie permettendo nel periodo fra settembre e ottobre dell'anno in corso e gli diamo appuntamento sicuramente ad un'altra manifestazione con la quale risottolineeremo nuovamente l'importanza dei temi che sono stati rivendicati con le iniziative delle manifestazioni del 2018 e del 2019 e come giustamente aveva anticipato anche il presidente Gianni Pappurini avevamo intenzione naturalmente avevamo già in programma di realizzare un'altra grande iniziativa per il 2020 che è in noi purtroppo a causa della situazione che stiamo vivendo non siamo riusciti a realizzare ma torneremo ancora più forti di prima perché tutti gli eventi che non siamo riusciti a fare nel 2020 li rifaremo tutti insieme nel 2021 li concentriamo dai li concentriamo nel video li concentriamo devo dire che come abbiamo visto molto bene nel video la partecipazione è stata tanta nel 2019 scusatemi nel 2018 e anche poi nel 2019 nella seconda edizione che avevamo fatto la partecipazione è stata tanta segnale del fatto che alla gente piace ai cittadini milanesi le iniziative sono piaciute molto hanno risposto presenti quando sono stati dati quando gli è stata data la possibilità di partecipare quindi chiaramente saremo ben contenti di riuscire a sostenere tutte le prossime iniziative perfetto tanto grazie grazie Gianni grazie a tutti i volontari che si impegnano per il nostro territorio la verità è questa perfetto salutiamo tutti coloro i quali hanno voluto dedicarci qualche minuto della loro serata vi ringraziamo grazie mille grazie mille a tutti buona serata a tutti buona serata di nuovo arrivederci di nuovo ciao ciao grazie a tutti grazie a tutti